9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... ... 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 attacco, attacco le cassero, dai, come fare lo cassero, dai! come è? lo attacco io, lo attacco io, dove lo attacco? basta te! bravo! bravo! amore! amore, Ale! buh! amore, Amore! amore, Amore! pure acciccio! bravo! Grazie.